Esami di maturità in corso. Negli istituti superiori c'è un vai avviene di studenti che presto si lasceranno i plessi scolastici alle spalle. Ve li ricordate i tre ragazzi del liceo scientifico Taramelli di Pavia? Sono tornati per raccontarci come è andato il loro esame e condividere con noi sogni e ricordi. Raccontiamo il giorno dell'esame, da quando ti sei svegliato a quando sei arrivato davanti alla commissione. Le sensazioni più che altro non all'aspetto tecnico? Vabbè allora, in realtà ero molto calmo, nel senso che non ero in ansia per l'esame, c'era l'adrenalina certo perché comunque è un giorno importante, però non ero particolarmente agitato. Almeno fino proprio a dieci minuti prima dell'entrata, a quel punto forse sì, un po' di ansia mi è salita, però comunque poi l'ho gestita, poi mi hanno chiamato e è andato tutto liscio. Non mi sono svegliato perché non ho dormito tutta notte, quindi il problema non c'è stato, però sono state settimane di studio devastanti e quando è arrivata la sera prima dell'esame ero lì che ho detto basta, va bene, quello che so, so, quello che non so, non so. Sono arrivato davanti alla scuola e mi sembrava di andare incontro al suicidio, però poi è stato, si è rivelata tutta l'ansia abbastanza vana ed è stato veramente bello. Allora, il giorno in cui appena mi sono svegliata, mi sono svegliata alle 5 e avevo gli occhi gonfi perché la sera prima ho pianto tutto il tempo mentre ascoltavo notte prima degli esami, un classico. Ero non tanto in ansia, ero più io che calmavo mia mamma che è venuta a pregare mentre io ero, mentre facevo l'esame, però dai così. Prima azione che hai fatto non appena sei uscito dall'aula dopo l'esame? Allora, sono corso via dall'aula, velocemente ho abbracciato tutti i miei compagni, poi abbiamo stappato una bottiglia di spumante, abbiamo un po' bevuto, quindi è stato più festeggiamento, ci siamo andati alla pazza gioia. In mente non avevo niente, semplicemente quando sono uscito dalla scuola ho sbattuto la porta del retro e in un'uscita gloriosa sono andato a festeggiare con i miei amici e a fare le foto con il busto del taramelli che è un po' il simbolo della scuola. Appena sono uscita da quella stanza sono corsa via nel corridoio, ho detto questa è l'ultima volta che lo faccio ancora da studente e ero contentissima, non riuscivo a smettere di sorridere, la faccia così in tutte le foto che mi ha fatto mio papà e poi vabbè ho stappato la bottiglia e ho festeggiato con i miei amici. Il ricordo più bello dei cinque anni al taramelli? Allora paradossalmente è quello che al momento abbiamo odiato di più perché in terza abbiamo fatto una gita a cui nessuno voleva partecipare, noi volevamo andare a Parigi, Praga, comunque città belle e alla fine ci siamo stati costretti praticamente ad andare a Mirabilandia, capite la differenza, è un po' così. Però comunque è bellissimo perché abbiamo capito che anche essendo a Mirabilandia, a Ravenna dove non c'è nulla sappiamo divertirci comunque in gruppo, è stato molto bello. I ricordi sono più di uno sicuramente però se penso alla gita in seconda quando siamo andati in Inghilterra in famiglia è stato veramente il momento in cui hai detto ok questa è la mia classe, la amo, questi sono i miei compagni in cui ci siamo uniti per la prima volta veramente. Ed è stato incredibile. Sicuramente il taramelli è stata l'esperienza più bella della mia vita nonostante sia stato pesante però il ricordo più bello secondo me è stato durante la gita in quarta a Barcellona una sera dopo che siamo andati tutti a bere la sangria di nascosto in un bar abbiamo comprato un piccolo dolce per un mio compagno che faceva 17 anni e in terremendo in un posto pieno di insetti veramente allucinante però lo rifarei mille volte. Adesso che siete fuori pericolo avete qualcosa da confessare ai vostri genitori? Beh allora niente di grave a volte ho fatto finta di star male per rimanere a casa da un'interrogazione una verifica o altre volte per esempio la mia prof d'inglese si divertiva a mettere le note magari quando io dimenticavo il materiale così e le guardavo sempre io dal sito della scuola così loro non l'hanno mai saputo praticamente. In realtà no nel senso che tutte le cose che facevo di solito in un modo o nell'altro venivano fuori ma comunque sono una persona che è abbastanza piatta e noiosa da quel punto di vista. Allora probabilmente sono la persona più noiosa dell'universo e non ho niente da confessare ai miei genitori però ho da confessare alla mia prof che una volta le stavo parlando sono scoppiata a ridere perché era vicinissima alla mia faccia e non ce la facevo a non ridere e solo che lei pensava che stessi piangendo e quindi mi ha carezzata, mi ha consolata, stavo ridendo però mi dispiace. Università? Faccio ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, ho già fatto gli esami quindi ormai sono in vacanza fino a settembre. Domanda critica nel senso che sono uno che non sa mai cosa scegliere però sono diciamo un po' diviso tra ingegneria gestionale a Milano oppure economia, devo ancora decidere. Sì, io vorrei fare medicina e vorrei entrare al San Raffaele di Milano però chiaramente c'è il test quindi quest'estate non mi diverto ma devo studiare tutto il tempo sperando di entrare. Perché scegliere la vostra scuola? Allora così un po' per ridere direi di non sceglierla perché però è un po' una battuta ma è un fondo di verità, ci vuole un sacco di impegno però senza dubbio poi viene ripagato nel senso che uscire dal Taramelli è una soddisfazione immensa. Il Taramelli lo scegli perché non lo so io penso che d'annunzio tu te lo possa dimenticare dopo cinque giorni, ti puoi dimenticare l'effetto fotoelettrico, ti puoi dimenticare i quadri di arte ma la persona che sei grazie a tutto l'impegno che ci metti, grazie a tutte le esperienze che fai, questo non te lo ridà nessuno e non te lo dà nessun'altra esperienza. Secondo me scegliere il Taramelli è una gran scelta perché all'inizio e soprattutto il primo anno si fa una fatica tremenda, ti sembra che tutto sia impossibile e poi quando invece raggiungi i tuoi obiettivi è penso la cosa più soddisfacente dell'universo e ti aiuta a superare tutti i tuoi limiti e ti insegna che puoi fare qualunque cosa se davvero lo desideri. Ragazzi quelli sono i vostri appunti? Sì! Che cosa ne volete fare adesso? No raccogliamoli! Li raccogliamo! Ragazzi salutate la vostra scuola! Addio! Ciao! Addio!